La sconfitta di un singolo è stata la sconfitta e l'umiliazione di tutti quanti, quindi ci appartiene, ce ne torniamo a Reggio in grande silenzio, con il rammarico di non aver dato un minimo di partecipazione ai 300-400 tifosi che sono venuti da Reggio e che speravano di vedere una prestazione dignitosa da parte dell'Aurolo Squadra. Come? Credo che ci siano tutte le premesse perché possa essere rimesso in discussione. Quindi stiamo a vedere, ci manca l'orgoglio, non siamo riusciti a trasferirlo a questa squadra, c'è poco rispetto di questa maglia, cioè essere regina. Devo ringraziare anche i tifosi della Mezzia, specialmente in tribuna, che mi hanno applaudito all'inizio della partita perché credo che la regina in questi anni abbia dato qualcosa a tutta la Calabria. Si è sentita sotto certi aspetti protagonista e portava un vessillo che non era solamente quello di Reggio Calabria ma di tutti i calabresi. Oggi siamo questo orgoglio che dovrebbe permetterci di essere, di portare, di affrontare qualsiasi avversario a testa alta, oggi non ci è appartenuto e sono veramente dispiaciuto anche nei confronti dei tifosi della Mezzia stesso per la prestazione indecorosa da parte della mia squadra.